Il presidente della fondazione Carminello Adarco teme il peggio, da qui la decisione di inviare una comunicazione anche al sindaco della città di Pagani, Raffaele Maria De Prisco, al comando di polizia locale e dai vigili del fuoco. E poi in tarda mattinata la decisione di allertare i caschi rossi, al centro del tutto una situazione di pericolo denunciata dal presidente della fondazione Agnello Gaito e che interessa i locali di via Matteotti a Pagani di proprietà della fondazione stessa, adibiti a mensa di Tommaso e Caritas parrocchiale. Il solaio di copertura è crollato e si è anche registrato il distacco dell'intonaco su una parete del chiostro. Gaito aveva già scritto una missiva indirizzata ad un Flaviano Calenda della parrocchia Corpo di Cristo per chiedere lo sgombero immediato dei locali per scongiurare pericoli per i volontari e quanti vanno a ritirare il pranzo da sporto dalla mensa di Tommaso o il pacco della Caritas parrocchiale. Poi una nuova lettera inerente alla richiesta di sgombero al fine di garantire la pubblica e privata incolumità, ha sottolineato il presidente della fondazione. Inoltre ci sarebbe già una vecchia ordinanza di sgombero che in passato sarebbe stata emessa e notificata al precedente consiglio di amministrazione. Anche su questo si intende ricevere risposte.